Quando è scoppiata Fukushima, Angela Merkel disse che fra vent'anni chiuderemo le centrali nucleari. Beh, cara Germania, o diventano subito europei, cioè di tutti, e l'energia è uguale per tutti il costo, o se no è opportuno chiuderle subito, perché se la Germania, la Francia, quelli che hanno ai nostri confini le centrali nucleari pensano di andare avanti vent'anni con il 40% del costo inferiore rispetto a noi dell'energia e in caso di incidente però i danni sono per tutti uguali. L'Europa deve dire subito, le centrali nucleari, la governance e la sicurezza in mano all'Europa e distribuisce l'energia a tutta l'Europa.